L'Inter Mi è piaciuto per i miei compagni Che hanno fatto un lavoro straordinario Li sento a tutti Li ho sentito durante tutto l'anno Io sono stato felice in quello che ho fatto E loro sono felice per loro Un'ultima domanda Sulla Coppa America, la tua Argentina Speriamo faccia bene Speriamo che possa Tornare con un trofeo Cosa che Argentina a livello nazionale maggiore Non riesce da tanti anni